con Mimmo e ditelo voi si celebra un'amica che abbiamo in comune che lei è Mavi Gagliardi ciao Mimmo e benvenuto salve buonasera a tutti senti invece nella tua progettualità artistica anche voi siete sempre in continua evoluzione tra i lungometraggi, il palcoscenico teatrale che secondo me è la vostra effettiva dimensione il contatto col pubblico che li fate ammattire anche dietro le volte ai vostri monologhi alla vostra suggestività d'animo sì, noi quest'anno staremo sia al Trianon che al Cilea con due commedie diverse un horror comedy al Cilea e una black comedy al Trianon un po' due opere che abbiamo scritto noi dopo Comorroide, il fil rouge è quello? no, no, è proprio un'altra cosa, a teatro facciamo altro, al TV Comorroide grazie Mimmo, a presto grazie a te grazie a te grazie a te